Architetto Marsala, parliamo della campagna di tesseramento 2021 di Italia Nostra che è cominciata. Sì, infatti sono qua per questo. Noi abbiamo, anche se siamo in lockdown, in zona rossa, comunque abbiamo aperto la campagna di iscrizioni perché comunque la nostra associazione non si ferma con lockdown. E quindi noi volevo comunicare sia agli iscritti ma a chi si volesse iscrivere che mercoledì mattina nella sede della Chiesa della Raccomandata dove noi abbiamo l'associazione ci sarà un nostro socio che raccoglierà le nuove iscrizioni. Questo è un passaggio pubblico per dire che non ci siamo ancora, non chiudiamo del tutto. Ecco, un patrimonio storico architettonico, quello di Sciacca, che molti, soprattutto i giovani, magari non lo sanno però è uno dei più prestigiosi in Sicilia o anche nel meridione d'Italia. Sciacca è importante ma comunque dobbiamo sempre ricordarci che Sciacca esiste perché esiste un suo intorno, un territorio piuttosto vasto. Le relazioni di Sciacca con il suo territorio che non è Sciacca in sé ma con tutto il suo territorio che, ripeto, molto esteso è importante alla stregua. Parliamo anche di paesi vicini. La storia di Sciacca sin dal neolitico è la storia del nostro circondario che arriva fino a Mazzara ma anche oltre. Quindi diciamo che sì, il nostro territorio è importante ma conosciamo anche altre parti del nostro intorno. Possiamo fare anche, vuole essere anche un omaggio alla figura del professore Cantone. A livello bibliografico la guida storica di Sciacca, quella dove si parla di, naturalmente in maniera didascalica, dei suoi monumenti più importanti, è ancora quella dopo tutti questi anni. Sì, infatti, adesso una delle iniziative che faremo è quella di commemorare il decennale del professore Cantone che tra l'altro è stato quello che ha fondato l'associazione la prima volta qui a Sciacca e noi abbiamo intenzione un attimo di rendere memoria a questa figura così importante di Sciacca. È importante perché comunque era uno storico, una persona di rilievo, studioso e poi in definitiva la guida che poi è stata fatta sotto forma di guida ma è una vera pubblicazione di carattere storico. È l'unica vera serie di riferimento per chi voglia conoscere i monumenti di Sciacca. Sono due i volumi, uno su Sciacca e uno sulle contrade. E chiunque si metta a scrivere qualcosa su Sciacca deve per forza di cose fare riferimento a quelle pubblicazioni. E quindi è giusto rendere un omaggio, è proprio doveroso, rendere un omaggio a questa figura di rilievo di Sciacca. Quindi mercoledì mattina hai chiesto della raccomandata dalle ore? Dalle nove, nove e mezza in poi, diciamo ecco, dalle nove e mezza in poi la mattina possiamo, raccoglieremo le iscrizioni.